E Catarella che cosa si mette qua? Commissario ovviamente? In commissario non si mette nulla, però si metterà la mescherina anche lui, perché ce l'hanno obbligata pure sul 7, dovremmo ritornare. Dovreste, questa è una cosa interessante, dovreste ritornare qua? Il quando non ci sa, ma c'è un altro episodio. No, altre due puntate ci sono. Questa è una notizia che ci fa estremamente piacere. No, Riccardino è un'altra puntata della storia del dopo il 43 che si tratta dei libri di Camillere, si faranno. Però adesso siamo sul punto di problema perché non sappiamo la data. C'è il giorno tramite la Palomar, c'è il giorno sempre, no raga non vi preoccupate, l'opzione l'abbiamo fermata.